Ore 5 del mattino del 24 dicembre, dopo giorni di consiglio regionale all'Aquila viene definitivamente approvato il bilancio. Era stata questa la promessa del presidente della regione Luciano D'Alfonso e alla fine tra polemiche e discussioni fiume la parola è stata mantenuta. Ma non senza polemiche, a presentare 750 emendamenti e tenere inchiodati sui banchi tutta la giunta c'erano i rappresentanti del Movimento 5 Stelle. Siamo riusciti ad ottenere degli importi importanti proposti nel Movimento 5 Stelle a sostegno della povertà. Abbiamo fatto inserire 150 mila euro in un fondo a sostegno della povertà per persone povere che non hanno neppure gli alimenti. Abbiamo fatto inserire fondi sul fondo dell'occupazione per sostenere le piccole imprese, l'imprenditoria femminile per incendivare il lavoro, sempre proposta nel Movimento 5 Stelle. Inoltre abbiamo fatto inserire 100 mila euro per la lotta all'abusivismo, per le case popolari, per ripristinare la legalità nelle case popolari ed altri interventi importantissimi. Siamo rimasti un po' male perché stanotte alle 4, 4 e mezza c'è stato un intervento molto acceso del presidente Luciano D'Alfonso nei nostri confronti. Noi che tra l'altro non abbiamo fatto uno struzionismo forte, abbiamo fatto un costruzionismo, abbiamo poi ritirato i nostri emendamenti perché parzialmente le nostre proposte erano state recepite ma l'intervento acceso forte di critica aspra del presidente D'Alfonso nei confronti di questa minoranza, di questa opposizione ci ha addolorato perché ecco ancora una volta la maggioranza non riconosce il ruolo importante e determinante per il miglioramento di questa regione da parte del Movimento 5 Stelle. Approvazione anche per la richiesta del Movimento per la vita indipendente. La richiesta di fondi da stanziari per il 2015 era di un milione di euro. Dopo 5 giorni di occupazione dei disabili nei neocali del Palazzo regionale si è arrivati a questo risultato. Sì, siamo riusciti a far stanziare 400 mila euro, sono pochi, ma con l'impegno che nei primi mesi del 2015 inseriremo un milione di euro sul fondo per la vita indipendente. Siamo convinti che questi fondi sono pochi, ma comunque è un inizio importante e noi continueremo con determinazione a sostegno soprattutto delle fasce più deboli della popolazione.